Noi accendiamo le nostre luci perché ricominci Anno Zero. Amore per Berlusconi! Di passare a Santoro che si vergogni che vada a lavorare! Che vada a lavorare! A lavorare dovete andare! Non si vada a lavorare! Che non si fanno lavorare! Sì, dove andiamo a lavorare se non ci fanno lavorare? Silvio! Andate con gli pomodori! E' stato pure in Italia! Pagionate! Questo è l'amore vostro! Voi, voi e il vostro compagno dite! Dite l'amore! Dite l'amore! Dite l'amore! La verità è questa! Siete i ladri! Siete processi in diretta senza contraddittorio! Non vi vergogliate? Non ci vengono! Voi vi dovete vergognare! Che idea si è fatto di queste telefonate fra Berlusconi e Innocenzi, il membro della G-Crom? Ci credo assolutamente, sono tutte balle, sono tutte bugie! E' troppo bello inventare bugie per poter attaccare l'avversario politico! Siamo in piazza per la libertà! Per la libertà di espressione, per la libertà di parola, per la libertà di voto! 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 Non ci avete messo il ginocchio! No! Silvio, liberaci dal male, no? Lo vuoi sapere proprio da me? A sinistra, a sinistra. Puoi chiedere più avanti? No, vuoi sapere da voi? No. Lo sai già, c'ha la faccia del male. Noi diamo amore, voi date odio. Voi odio, voi amore. Noi odio, voi amore. Sì, è sbagliato. È un po' un lapsus proetiano. No, no, no. Ma perché deve spingere? Sì, però senza spingere. Ma perché deve spingere? Perché ha questo atteggiamento? Io sto facendo il mio lavoro. Perché spingere? Fanno una merda, grazie. Molto facile. È la manifestazione dell'amore, d'altronde, questa, no? L'amore che vince sull'odio. È una merda, provoca po'. Ma di cosa? Oh, ma perché? Dai, perché? La RAI utilizza i nostri soldi, i soldi dei cittadini, perché le tasse le paghiamo noi. E voi dovete fare i programmi. Stentate. E dovete essere superparte, invece voi siete di parte. Ci devono per voi. No, no, no. No, 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 no. Travaglio, vaffanculo! È un provocatore. È un provocatore, comunque. È un provocatore, che domanda ha fatto? Ma che è mia manifestazione? Travaglio, vaffanculo! È un mio lavoro, signora. Ma te schifo! Te schifo! Merdoso! Sei schifo! Silvio! 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 Non è la manifestazione dell'amore, signora. Guadagna due milioni di euro, che se mi facesse quei soldi suono. Ma non era la manifestazione dell'amore, signora. Non mi sembra che ci sia. Non è più bene, non ti dico. Non ti faccio, non ti dico. A morte Santoro, a morte Santoro. A morte Santoro e ti diventi pietro. È proprio la manifestazione dell'amore, avete detto. A morte Santoro e ti diventi pietro. Troppo folla, ragazzi. Come si dice, troppa grazia, Sant'Antonio. Di pietro, mafioso, Santoro, fascista. È arrogante, questi, non ci fate mai parlare. In televisione ci siete tutti voi, ci siete tutti voi. È travaglietto, è travaglietto. E ora non c'è più nessuno. E non male, è una balla, una balla. Per quanti riflessi sull'acqua, la solita bionda che ammica. Muove un pezzero sui passi e si fa strada nella mia follia. Versami un poco da bere, ma fallo senza parlare. Tempo di rumba e di miele, un'emozione ci fricherà. Abbiamo superato appotentemente un milione.